Davanti ad un Genoa in ripresa l'Inter cerca di avvicinare la vetta della classifica, partono bene i rosso-blu al settimo, il lancio per Luca Toni che prova un sinistro debole sparato da Giulio Cesar alla decimo, ancora Toni sugli scudi, l'azione ben manovrata, quella della squadra di Gasperini, Criscito mette giù il pallone, alza la testa, il suo lancio verso Toni, la splendida sponda di Toni per Mesto che sbaglia il cross pallone che finisce soltanto sull'esterno della rete. Al tredicesimo si fa vedere l'Inter, Biabiani l'azione in orizzontale, il pallone per Schneider, il destro al volo para in due tempi Edoardo, questo è il primo squillo dell'Inter nei primi 20 minuti, è soltanto Genoa, è soltanto Luca Toni che va via qui di prepotenza, Lucio poi esplode un destro a girare, bravissimo Giulio Cesar a respingere in calcio d'angolo, è un Inter che soffre perché il Genoa si fa vedere soprattutto con gli esterni, qui ci prova Mesto ancora la sponda di Luca Toni, il destro però di Mesto non fa male a Giulio Cesar, entra Muntari al posto di Cambiasso, proprio Muntari ad alimentare quest'azione al 29esimo, lo scambio con Coutinho, Muntari nel mezzo per Eto'o e la destro al volo del camerunense, pallone incredibilmente fuori Eto'o tradito da una zolla. Al 42esimo invece la grande occasione ce l'ha il Genoa, pallone che arriva sui piedi di Cico, mette nel mezzo lo spagnolo per il destro di Marco Rossi, pallone fuori anche qui, grandissima occasione, due occasioni nel giro di pochi minuti. Il gol arriva al 48esimo con il pallone da Sneijder per Muntari, sinistro al volo che inganna Edoardo Papera della portiere portoghese, 1-0 Inter su questo sinistro potente ma centrale, sicuramente non perfetta la scelta di tempo del portiere Edoardo. Con le immagini andiamo nel secondo tempo, parte bene l'Inter che ha subito una grande occasione al settimo, Sneijder per Biabiani, questa volta Edoardo si supera e si riscatta parando il destro del giocatore francese. Alla decimo attacca il Genoa, prova ad arrivare al pareggio, un'azione ben manovrata, pallone che arriva sulla destra di Luca Toni che esplode, un tiro al volo, cerca l'Euro goal, pallone che supera la traversa e si perde sul fondo. Ancora Genoa con Milanetto, alza la testa Milanetto, pallone nel mezzo dell'area per Luca Toni, colpe di testa che impegna Giulio Cesar, Luca Toni sicuramente tra i migliori della Genoa, entra anche destro al posto di Ciccola, attaccata e si fa subito vedere con questo tiro al volo di prima intenzione per Lone che però si impenna e finisce sul fondo. Un minuto più tardi, altra grande occasione per la squadra di Gasperini che schiaccia l'Inter, sfera che arriva a Criscito che la mette giù con il petto, poi esplode un sinistro che finisce di poco a lato. Entra anche Boaché, tutti dentro gli attaccanti di Gasperini, qui si fa spazio a sportellate, il suo destro però non inquadra la porta. Siamo al minuto numero 44, nei minuti finali siamo al 48esimo, altra occasione per il Genoa pallone che arriva a Luca Toni che però trova soltanto l'esterno della rete. L'Inter riprende quota grazie a questo successo, al Genoa non basta una buona partita per rimediare all'errore del proprio portiere.